Rimaniamo ancora nel repertorio di Bach con un corale dal titolo Idilis Freud, Gesù mia gioia, appartenente al ciclo di Natale. Come da tradizione tedesca, il corale viene preceduto da un preludio organistico che serviva per dare l'intonazione all'assemblea che cantava poi la melodia. La melodia di questo brano è tratta da un balletto a cinque voci di Gastolti del 1500 dal titolo Il innamorato. Bach sostituì il testo profano con un testo sacro, prassi molto usata all'epoca. Vedo che vi siete scambiati, quindi abbiamo all'ordine il maestro D'Arte Monbelli, Matteo Monico, che dirige a voi Il Dyrgis Freud. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.